10 concerti che vedranno alternarsi musicisti con esperienze artistiche e religiose diverse. L'appuntamento è ogni venerdì a partire dal prossimo 14 marzo presso il Centro Policulturale Bobab di Roma. Questa prima edizione del Festival Cultural Bridge è stata ideata e realizzata dall'Associazione Culturale Milagro Acustico, con l'intento di costruire un ponte tra le diverse culture e favorire l'interazione tra le realtà artistiche del territorio, da anni impegnate nella diffusione dell'audio e delle radici. Non solo musica, però, l'iniziativa nasce per creare un punto d'incontro per lo scambio culturale che da anni manca nella capitale, come ci hanno spiegato il coordinatore Bobab Daniele Zaccon e il direttore artistico dell'evento Bob Salmieri. Il Cultural Bridge già di sé parla da solo, quindi il ponte verso le culture. Noi in questo momento come centro siamo portatori di diversi tipi di cultura, siamo ricchissimi e siamo i cosiddetti importatori di cultura che in qualche modo in questo momento li stiamo condividendo, mixando con tutto quello che è la città di Roma, con dei musicisti, con degli artisti eccezionali che hanno fatto comunque della musica del Mediterraneo in genere, un luogo di sperimentazione tra questa sponda e l'altra sponda del Mediterraneo. Oggi in qualche modo vorremmo rispiccare questa loro intercultura che realmente esiste nella città di Roma. È un'occasione per far rinascere alcuni posti a Roma e questo in particolare il Bobab, un posto straordinario per questo motivo. Far rinascere questi posti che a Roma sono un po' carenti, per chi ha vissuto la cultura a Roma negli anni 80, 90 come me, si ricorda probabilmente che Roma era una città molto più fertile e viva di quanto lo sia adesso. Questo festival e questo posto è un'occasione appunto per far rinascere innanzitutto tanti musicisti di tante esperienze culturali e religiose diverse, ma soprattutto far rinascere la cittadinanza di Roma anche con i profughi eritrei che sono qui nello stesso campo, e quindi far vivere questo posto in tutti i sensi. Il biglietto è 10 euro per il concerto, 20 euro con la cena, concerto più cena.